ciao a tutti ragazzi sono debora oggi è il 9 giugno e tra poche ore parte il mio volo per l'australia ho un working holiday visa per un anno e spero di poter condividere con voi la mia esperienza e le mie avventure in terra australiana ancora non so che posto avrò in aereo e se riuscirò a fare delle riprese nel caso ve le lascio di seguito grazie a tutti 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 grazie a tutti